Oh, guarda che si rivede, bella a tutti i zii porulenti della mia anergia, sono Matto Gio 6, sono il mio caro Gio, ragazzi voi non potete capire quanto io sia stupido, domani uscirà un video in cui io, diciamo, mi scuserò per l'inattività di queste due settimane, ma ragazzi voi non avete capito quanto cazzo sono stupido. Primo, hanno cambiato l'impostazione di caricamento di video di Youtube e quando, di solito, quando il caricamento finiva, il video veniva pubblicato, mentre adesso, tipo, stranamente, il video si carica, poi tu devi schiacciare per pubblicarlo, e quindi io non sapendo, non riuscivo a pubblicarlo, e quindi vedevo che continuavamo, tipo, per zero visualizzazione, zero like, ho detto, no, non mi vogliono più i miei amici, i miei poveri amici, e allora mi rostrò demoralizzato, ho fatto ben due video che non sono stati pubblicati, che ingenuo, quindi niente, spero che capiate quanto stupido io sia, bella!